Il Galles è sempre una partita complicata, noi abbiamo vinto spesso da loro, loro hanno vinto da noi è una squadra che soprattutto nel reparto degli avanti ha molta consistenza sia in mischia chiusa ma anche nel gioco riescono ad essere logoranti lì davanti nei tre quarti invece soprattutto all'ala hanno buona velocità quindi è una partita complessa, secondo me che parte sempre da un equilibrio di fondo quindi sarà importante innescare una dinamica positiva sin dall'inizio e comunque durante tutto l'arco della partita riuscire a gestire i vari momenti della gara è una partita sempre da 50-50, anche lì sappiamo che possiamo avere delle armi a nostro favore sappiamo i loro punti di forza, ripeto, sarà da gestire una dinamica corretta durante la partita grazie a tutti grazie a tutti